Il Papa sta intrattenendosi con il Presidente della Repubblica, che certamente ringrazierà per tutto quello che è stato fatto per questa visita. Intanto tutto è pronto, tutto è preparato. Il Papa uscendo avrà modo di salutare, essendo riparati un po' dalla pioggia, sia i Vescovi come pure la delegazione del Mozambico. Effettivamente il tempo non è dei migliori. Sì, si vedono quante nuvole che vengono dall'oceano. Certo. È una giornata veramente... Ma forse è anche l'oceano che vuole unirsi nel rendimento di grazie. 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 Quando tu, Diacono Vito, ritornerai in Mozambico? Eh, non lo so. Ancora... Adesso andrà in Brasile. Sto studiando teologia pastorale a Padova. La licenza è in teologia pastorale, quindi è una pausa di studio e poi, se Dio vuole, ci sarà in Brasile. Ma futuramente potrà tornare anche... Io voglio, non so se posso, Don Guido, ringraziare in questo momento tutti i teleaspettatori, chiedere scusa eventualmente per... e ringraziare soprattutto lei e chiedere... No. No.